Andiamo al segno dello scorpione, una luna bellissima, transita nel punto più alto del vostro cielo, del vostro oroscopo. È una luna che può portare dei colpi di scena dal punto di vista sentimentale, di notizie per chi le sta attendendo, aspettando, e ci sono anche dei rapporti nati come delle semplici amicizie che possono evolversi per qualcosa di diverso, qualcosa di più intenso, più passionale, e del resto con questo marchio di transita nel vostro cielo, la passione prende il sopraffonto.